Vai Non c'ho più un euro io e non hai più un euro te Va bene? Che saldegna? Anche i miei soldi Stai ridendo? No, no, ti prego, ti prego, dai, dai, dai Pronti dai, 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 per carità Morta una moglie, ma ti senti? Non me li hai mai nominati in tutti questi anni Adesso mi parli di tua moglie, dei ragazzi Ti è venuta voglia di fare il padre tutto insieme? Questa è una frase che non mi piace Che non mi sarei mai aspettato Qua hai sbagliato, perché significa che non hai capito niente Invece ho capito tutto, credimi Ma che hai capito? Fermati Gemma, dai, fermi Ho già aspettato abbastanza Adesso scusami ma c'è un taxi che mi aspetta Eh vedi com'è, non si può fare una cosa No, basta Ecco, questa frase non mi piace Qua sbagli, perché significa che non hai capito niente Invece ho capito tutto Che hai capito? Dai, vieni qua, dai, te stai com'è Ho aspettato già abbastanza Ma ridi, Carlo ma ridi per Ridi lui Ridi lui per lui Non tolto la casa che va bene Lìa, Lìa Ma come lascia Isha? Che si abbandona? Si abbandona una figlia così? Da sola? In cucina? Dov'hai? No, no, ma io ti ringrazio, però non voglio disturbare Io ti lascio il gelato, ve lo mangiate voi, vedo che siete felici e contenti Ma perché? Scusa No, 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 meglio così, dai Comunque, di una cosa Sono particolarmente Senti, siccome i ragazzi sono usciti Che vuoi? Siccome i ragazzi sono usciti Ho messo la iscia a letto Scusa, scusa il fatto di dire scusa Quella che voi chiamate depressione si chiama anima E gente che lavora come voi Non è più in grado di recepirla Capito? Perché? Perché voi, noi Siamo purtroppo diventati delle persone Ecocentriche e E ciniche Parla per lei Parla per lei Ma che c'è venuto a fare? C'è l'ecologia, fatta Perché delle persone come noi Ecocentriche Cristiani Del diciottesimo Le dimensioni sono fondamentali Ma come? Ma lui prende dei farmaci Ma quali farmaci prende? Che non esiste, che ha una cura Che è? Stop Che è? Lea, mi sa che dobbiamo caricare i bagagli in taxi? No, hai spaiato la battuta Dai, un altro bicchiere Dai, un altro bicchiere Non porti il bicchiere, non si capisce Lea, dobbiamo caricare le valigie nel taxi? Un minuto ragazzi Eh, dai Dai, un... Un... Che parole! Allora Allia e Richard Che possano avere una vita bella e felice Grazie Stop Che è te? Che si c'è? Pietismo cattolico Dai No Fermi Ultima cosa Fotografia ricordo Ci tengo Gruppone Tutti quanti in là Dai Dai Ma scusa Falla fare a Richard La foto, no? Terribile È il cadare in bocca Andiamo via i otto Ah, it's not working Hold on Accentica Yeah, cheers a much Aspetta Che è stoppa 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 E scarica la batteria Sono me da poco Che è stoppa Still say cheese Eh va bene Vabbè dai 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 Allora se c'è una persona Che ha fatto il tifo Affinché mia moglie Ecco Adesso qua Oggi è la giornale degli errori Pensate mia moglie Sono una persona sola Io sono rimasto solo Hai fatto partire lì Che ho iniziato un po' Dei rapporti Ecco qua No Manca un pezzettino Che manca? Il mestiere? Eh lo so tesoro Lo so No non sapevo che fare No Se c'è una persona Che ti fa Perché mia figlia Se ne andasse Quella sei stata proprio tu Io? Andate Partite Com'era? Andate Partite Fateve una Andate Partite Fateve una vita Senti Tu oggi Voi un po' Nel cuore Io non so 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 Non so